20 piccoli alunni della scuola dell'infanzia magnole sono stati sottoposti a degli screening gratuiti della vista volte ad individuare nei bambini l'ambliopia alterazione visiva meglio conosciuta come occhio pigro che si manifesta proprio nei primi anni di vita fase in cui è fondamentale intervenire per prevenire ulteriori complicazioni in età adulta a visitare i primi pazienti la dottoressa Maria Chiara Venezia. Abbiamo iniziato questo screening appunto questa mattina fino adesso ho visitato quasi 20 bambini in totale però lo screening prevede più di 200 bambini ovviamente non saranno visti tutti oggi ma abbiamo suddiviso le visite nei vari giorni e finiremo quindi verso giugno lo screening si basa appunto sul controllo della vista e andiamo a valutare quindi la misurazione della vista di entrambi gli occhi prima di un occhio poi dell'altro. Lo scopo di questo screening è appunto quello di andare a controllare se i bambini effettivamente hanno un problema di vista. In cosa consiste? Noi utilizziamo un tabellone appunto chiamato otto tipo dove sono rappresentate delle figure. Queste figure sono delle figure abbastanza semplici ad esempio una bambina, una barchetta, una casetta appunto delle figure che i bambini subito riescono a riconoscere o comunque danno un loro significato. Questo screening è stato voluto appunto perché molte volte le mamme anche se stanno molto attenti ai loro bambini e andare a vedere se un bambino effettivamente ha un problema di vista non è facile. Anche per noi che comunque facciamo questo mestiere non è molto semplice. Infatti non è facile come vi approcciate voi ai bambini? Allora approcciarsi ai bambini diciamo che stamattina mi sono stato molto all'inizio i bambini quando mi hanno visto arrivare mi hanno iniziato a chiedere chi sei poi comunque ho spiegato loro che era soltanto un gioco dovevamo fare il controllo della vista e diciamo che sono stati abbastanza bravi. Si tratta di una delle tante iniziative di prevenzione portate avanti dall'associazione Orazio Capurra Amore per la vita Ollus accolta dal Dante Lighieri di Sciacca. Per noi la prevenzione appunto diventa uno stile di vita ecco perché siamo contenti che questa attività venga svolta nella scuola dell'infanzia perché noi riteniamo che se nell'animo dei bambini mettiamo il seme giusto perché possa poi germogliare noi davvero ci abbiamo la certezza ecco in un certo senso abbiamo la certezza che una volta cresciuti avranno cura del proprio corpo e della propria salute. Questo screening sull'amplopia è una delle iniziative alle quali noi teniamo tantissimo e che ci sta vedendo impegnati proprio in questo periodo ne abbiamo tante diciamo iniziative attività da portare avanti. Lo screening rivolto ai bimbi più piccoli per noi significa appunto prevenzione significa intercettare quelle che possono essere le problematiche che magari non vengono rilevate anche nella quotidianità dai genitori e in questo modo noi riusciamo comunque a poter aiutare questi bimbi nel caso in cui appunto ci fosse la problematica dell'amplopia quindi l'occhio pigro.